Perché 25 aprile rappresenta un momento fondamentale nella storia del nostro paese, è un po' come se fosse l'unità d'Italia la festa della nostra unità, quindi a maggior ragione oggi in un paese che è diviso, che è combattuto, ricordare la festa che ci ha portato di nuovo a essere paese unito e soprattutto liberato da quelle che erano una dittatura e un'occupazione straniera direi che è fondamentale. È importante per non dimenticare il sacrificio di tante persone che ci hanno donato libertà e democrazia e in questi tempi sembrano essere un po' a rischio. Perché i valori della resistenza oggi sono sempre più dimenticati, sta passando l'idea che sia una lotta contro chi è a favore e chi è contro, mentre sono valori alla base della nostra democrazia, del nostro convivere civile, quindi oggi più che mai è importante essere qua. Perché dobbiamo ricordarcelo tutti i giorni, perché siamo liberi di manifestare grazie a chi ha combattuto tanti anni fa e ogni giorno ci sono delle dimostrazioni del fatto che il passato può tornare e noi dobbiamo lottare per il futuro, per un futuro migliore, per i nostri figli e per le nuove generazioni. È importante essere qui stasera perché sono le radici della convivenza di questa grande comunità che è il popolo italiano. Senza radici non c'è futuro, questa è una cosa che bisogna imparare e la semplificazione dell'esistente non aiuta il futuro. La realtà è complessa e della complessità fa parte della nostra storia, tutto qui. Grazie.